A me non può fare che piacere, il popolo quando si esprime ha sempre ragione e questo in realtà ci dice, ci spiega per quale motivo in Italia non ci lasciano fare il referendum per l'indipendenza del Veneto. E' chiaro, si ha paura dell'opinione del popolo, si preferisce governare un paese all'interno degli uffici romani asserragliati in inutili disquisizioni che poco hanno a che fare con i bisogni del popolo. Bisogna dare la parola al popolo. Una strada percorribile anche in Italia? Io mi auguro di sì, ovviamente in Italia sarà anticostituzionale perché tutto ciò che dà fastidio al sistema non è costituzionale, quindi sappiamo già che non si potrà fare eccetera eccetera, ma io credo che su un tema come quello dell'immigrazione sia doveroso dare la parola.